La Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha ricevuto a Montecitorio il Professor Franco Gallo, prossimo a lasciare la Presidenza della Corte Costituzionale. Laura Boldrini ha ringraziato Franco Gallo anche a nome della Camera dei Deputati per l'azione di garanzia svolta alla guida della consulta, sottolineando il riferimento fondamentale della Carta Costituzionale per la vita civile del Paese. Grazie a tutti.